Sì, abbiamo trovato un gruppo grande di 20 studenti di parte di Rodecruz, che sono stati di diversi luoghi, naturalmente il gruppo più grande di Aruba, però abbiamo trovato un gruppo di Stesha, di Saba e di Bonneiro. Quasi è un gruppo, un gruppo che è riconosso internazionalmente per la Federazione di Cruscora, per tanto lo che sta in National Interferencing Team, che non potrà ora che ci sono in caso all'interno, con un gruppo che è riconosso internazionalmente per la Federazione di Rodecruz, per l'aiuto in caso di calamità all'interno, e anche un gruppo che è parte di un'assessibilità, che è un gruppo che è riconosso di una situazione di crisi, ha un'assessibilità, per quanto riguarda la situazione, per fare un progetto per l'OPCET, per fare un'assessibilità per l'attenzione di una crisi. È un gruppo grande di bambino, studiante non capace, non ha studiato in ora, non ha lato, l'instruzione ha vinto a bambino a bambino a bambino a bambino a bambino, e ha donato un super buon training, ma come negativo, ha un lavoro basto duro per i studiante non capace, se no, è facile per non, però al final non ha raggiunto il certificato. Sono contento di essere qui, ponendo Rodecruz a ruba, per il gruppo di Rodecruz a ruba, che è capace di essere qui, arriva un livello alto, per il gruppo di Rodecruz a ruba, una chiamata per la Rodecruz a ruba, di parte della federazione internazionale, per dare un'assessibilità all'interno. Il gruppo di Rodecruz a ruba di Rodecruz a ruba di Rodecruz, di Rodecruz a ruba di Rodecruz a ruba di Rodecruz, di Rodecruz a ruba di Rodecruz a ruba, con sotto il gruppo di Rodecruz a ruba di Rodecruz, una chiamata a ruba di Rodecruz, che si v Так che invece Gadgete três years passare, saya lavorare a Rodecruz a ruba di Rodecruz a ruba, il gruppo di Rodecruz a ruba di Rodecruz dove ha lawmakers anche giovato di Rodecruz, wichtig, non fijo, porti un'expertizio hopi alto, con un'ambo aiutato in caso non di calamità. E questa è una promessa e la nostra hopi è contenta che sia qui e è un'opportunità di costruire un'ambo a passare il corso.